Locomotive Cuban, gli avversari della Virtus nel prossimo impegno di Aero Cup. Squadra russa fondata nel 1946, gioca le sue partite casalinghe al Basket Hall, in pianto da 7.500 spettatori, a sede a Krasnodar, città, con circa un milione di abitanti, situata nella Russia meridionale, molto vicina al Mar Nero. Originariamente denominato Locomotive Vodi, debutta in ambito europeo nella stagione 98-99 in Coppa Koraz. Nel 2009 poi Krasnodar diventa la sua casa e viene rinominato Locomotive Cuban. Nel 2012 il debutto in Aero Cup che poi vince nella stagione successiva. La vittoria in Aero Cup consente poi a Locomotive di giocare in Aero Lega senza però raggiungere i play-off. L'anno dopo il Locomotive, nonostante un record di 20 vittorie consecutive in Aero Cup, viene eliminato dall'Unix Kazan. Nel continuo passaggio tra Aero Lega ed Aero Cup, la stagione 2015-2016 è diventata storica per Cuban. Grazie alla vittoria contro il Barcellona nei quarti di finale, la squadra russa ha partecipato per la prima volta alle Final Four di Aero Lega, finendo poi terza. Negli ultimi anni il Locomotive si è sempre mantenuto su alti livelli, portando un roster competitivo che però non è mai riuscito a superare le partite decisive. Pericolo numero uno sicuramente Jordan Crawford, miglior realizzatore della squadra, con il 45% da tre. Williams e Hervey, la coppia di lunghi con tanta presenza fisica in area, ma soprattutto a rimbalzo, con il primo che cattura 12.7 rimbalzi a partita, il migliore di tutta la competizione. Pasciutin è il capo allenatore visto anche qualche anno fa sulla panchina di Cantù, ma sono molti gli ex italiani in squadra. A partire da Kalnietis, miglior uomo assist dell'Euro Cup insieme a Teodosic, e Kuzminskas, visti entrambi nel nostro paese con la maglia di Milano. Will Cumming, terzo miglior realizzatore della squadra, ha vestito anche se per poco la maglia di Trento. Anche Reggie Lynch rappresenta una recente conoscenza del campionato italiano lo scorso anno all'Urania Milano in Serie A2. Ed infine Ivan Paunic, sei partite in Virtus per lui nel 2012 ed aggregato a ritiro dei bianconeri nell'estate 2019. All'andata 85-79 risultato finale in favore della Sega Fredo, con 18 punti e 7 assist per Milo Steodosic. Mercoledì 11 novembre, la gara di ritorno alle 17.30, in diretta su Eurosport e Nettuno Bologna 1.